I DEM non lasciano la giunta nonostante la crisi palese che ha travolto i rapporti tra il sindaco Lucio Greco e gran parte della sua originaria maggioranza. La direzione del partito che si è riunita ieri sera ha invece rilanciato la necessità di una rivisitazione del progetto. Verrà presentato un documento politico da sottoporre non solo a Greco ma a tutti gli alleati Arcobaleno. C'è la convinzione che possa trovare forte condivisione. Il segretario cittadino Peppe Di Cristina fa sapere che il partito non è interessato alla vicenda delle poltrone. Secondo i DEM adesso servono i temi da affrontare nonostante quanto accaduto nelle ultime settimane con il sindaco che ha scelto di mettere la sua sigla politica sulla giunta bis. Senza lasciare troppo spazio ai partiti che lo hanno sostenuto i DEM confermano non la fiducia al primo cittadino ma una volontà di battere ancora la pista delle larghe intese che li ha portati a Palazzo di Città. Lo ritengono un modello non in affanno. Ammettono condivisioni di obiettivi con Forza Italia è una buona idea. C'è l'esigenza di ritornare a parlare con le persone. Deve essere questo l'obiettivo dell'amministrazione almeno secondo quanto indicato ieri dalla direzione parlare con chi è stato colpito duramente dalla crisi, con chi ha perso il lavoro ma senza demagogia. Secondo i DEM non ci sono più alibi alla direzione. C'era praticamente lo stato maggiore del PD locale, dal segretario e consiglieri passando per l'assessore grazie a Robilatti e il deputato regionale Giuseppe Arancio. Oltre agli ultimi innesti rimane forte il canale istituzionale con il ministro Giuseppe Provenzano che forse tra marzo e aprile potrebbe ritornare in città questa volta a presentare il piano per il sud. Secondo i DEM Gela deve ritornare al centro dell'agenda del governo nazionale. Deve essere il simbolo della questione meridionale. Di Cristina è piuttosto chiaro nel sostenere che deve essere il sindaco Lucio Greco adesso a dimostrare di essere all'altezza di questa sfida. I DEM lo vogliono comunque aiutare. Le incomprensioni politiche che rimangono i democratici le mettono da parte senza lo scisma che qualcuno aveva pure ipotizzato dopo le ultime mosse di Greco. Con il documento che verrà presentato di Cristina e i suoi sonderanno il campo amico ben sapendo che il fronte del dissenso interno di queste settimane ha comunque rafforzato una certa comunione di intenti soprattutto con forzisti e civici di una buona idea. Se la lista di riferimento di Greco rischia di perdere altri pezzi un'altra ala della maggioranza potrebbe fare da traino purché Greco rinsaldi alcuni canali politici che al momento appaiono piuttosto in bilico lasciare la giunta rischiando di essere bollati come quelli che volevano solo il secondo assessorato non rientra nei piani della segreteria DEM. Greco però rimane sempre sotto stretta osservazione.